Credo che il cinema non abbia veri momenti di crisi se non economica oppure nelle sale, ma in questo momento il cinema come le serie tv, cioè tutto il racconto per immagini, ha una forza propulsiva assoluta. Nel libro lei parla di Fellini e 8,5, avendo lavorato con tanti registi, non crede che sia il momento anche per lei di parlare del suo 8,5, di creare un suo 8,5? Io credo che il mio 8,5 è in qualche modo pian piano come i libri lo sto facendo, perché mettere al centro di un libro me come personaggio, Francesco Piccolo, che vive e racconta, a prescindere da quanto poi le cose siano vero o no, significa fare la stessa operazione che fece Fellini in 8,5. Del resto quasi tutto quello che si racconta dopo, in prima persona, con il personaggio che è anche autore, l'autofiction, e anche un cinema che ha seguito tanto 8,5, arriva da là. Io credo che 8,5 abbia fatto nascere un modo di raccontare contemporaneo, che anche io sto facendo perché è esistito 8,5. Penso che potremmo vedere la bella confusione al cinema? Può darsi, nel senso che è un periodo in cui raccontare per esempio il cinema, raccontare i protagonisti di un'epoca, si fa, si fa nelle serie tv, si fa il cinema, quindi potrebbe anche succedere che vogliano prendere i diritti del libro per fare qualcosa, può succedere, sì. Ok, grazie.